Maurizio Fondriest, dopo tre tappe fra Austria e Sud Tirol, oggi il Tour of the Alps, ex giro del Trentino, torna a casa. Cosa ci aspetta? Penso che sia stata la soluzione migliore, dare all'ex giro del Trentino un po' più di internazionalità, perché con i cambiamenti che ci sono stati negli ultimi anni nel ciclismo, bisognava avere una corsa a tappe un po' più lunga, quindi cinque giorni sono già buoni in preparazione al Giro d'Italia. Difatti si vedono i risultati, molte squadre pro-tour che sono presenti qua, quindi a livello mediatico, a livello di visibilità, questa è la soluzione migliore. Avremo due tappe impegnative, come del resto tutto questo giro, oggi si arriverà proprio al mio paese, a Cles con un finale duro, però penso che potrebbero arrivare una quindicina di corridori. Domani è la tappa dove ci potrebbero essere i cambiamenti, perché già è il quinto giorno, il bondone e in finale c'è questo strappo molto duro proprio in prossimità del traguardo. La conferma e la rivelazione di queste prime tappe del Tour of the Alps? Rivelazione, da una parte Garen Thomas è una rivelazione fino a un certo punto, però Garen Thomas quest'anno punta a far bene al Giro d'Italia, quindi può essere la rivelazione, perché negli anni scorsi non abbiamo mai visto Garen Thomas puntare a una grande corsa a tappe, quindi se vincesse magari questo giro Tour des Alps e lo vedremo protagonista al Giro d'Italia sarebbe sicuramente la sorpresa. Celano è il corridore fra i ragazzi giovani che è sempre arrivato nel primo gruppo, quindi penso che sia la rivelazione di questo giro. E per il Giro d'Italia invece qualche nome? Penso che per la classifica finale Quintana sarà sicuramente l'uomo da battere, ho visto ieri Nibali in Croazia, l'ho visto già bene anche se il livello dei partecipanti non è quello del Giro, però l'ho visto a rientro delle corse già in buona condizione, quindi penso che Nibali farà un grande Giro.